Potremmo fare una risposta interessante ai cittadini, se verrà data. Se poi lei ritiene opportuno farlo votare dal consiglio comunale, allora rispetta il regolamento. Altrimenti, io non ho fatto nessuna richiesta, perché come ho visto, l'interrogazione non tratta né di qualità di persone. Non è necessaria qualche legge in buona sicurezza. Sicuramente la trattazione non è pregiudizievole all'interesse dell'opportunità, anzi, forse è il contrario. Quindi non rappelgo assolutamente al termine di regolamento la necessità. Poi, se il sindaco in risposta vuole parlare di qualità delle persone, dovrà dire che chiederà lui la segretazione del suo intervento. Io, l'interrogazione non l'ho fatta stampa, eh. anche perché la segretezza delle sedute, in linea generale, è... a meno che non mi dice dove, ai sensi dell'articolo 94 del regolamento, no? E' assoluto la segretaria. Però, sembrava che un attimo, quindi così un attimo rispondo, in quali io mi passi la parola del segretario. La, diciamo, volontà del miei segretario, del regoliero del segretario, di questa domanda attualità, non poi analogia con la precedente interrogazione dei due duecenti consigli comunali, dove, in sostanza, lei ha chiesto anche di farlo in maniera segreta. Adesso io sospendo per dieci minuti, riunisco l'ufficio di presidenza segretario, consigliere Carponi, consigliere Vicozzi, ci vediamo l'ufficio mio e facciamo la parola. Grazie.